Un cordiale bentrovato al pubblico di Talk Sicilia per questo ennesimo appuntamento con i nostri talk elettorali. Perché come chi ci segue quotidianamente sa stiamo facendo il giro dei candidati e oggi è il nostro gradito ospite in studio Renato Schifani, candidato presidente del centrodestra, non ha bisogno di particolari presentazioni, molti di voi se lo ricorderanno presidente del senato e in diversi altri ruoli. Grazie per essere qui con il nostro studio. Grazie a voi dell'invito. E allora con Renato Schifani faremo quello come facciamo un po' con tutti, prima di tutto parliamo di come lascia questa candidatura e quali sono i programmi, le idee da portare per la Sicilia, perché i siciliani vogliono sapere un candidato, cosa farà per loro. Questa candidatura dal sottoscritto non era prevista, non avevo mai avanzato questa richiesta anche perché ritengo che a questi ruoli si viene candidato e non ci si candida. è successo per me inaspettatamente, la dinamica interna al centrodestra è stata negli ultimi tempi una dinamica molto dialettica, se non voglio dire conflittuale, ma dialettica, avevano delle crisi nei rapporti tra il governo e la maggioranza, alcuni partiti e la maggioranza si rischiava concretamente il ripetersi del 2012, la tensione era notevole, nel 2012 ricordiamo come ci siamo divisi, abbiamo regalato la regione a Crocetta che ha lasciato del suo governo un pessimo ricordo, 40 assessori sostituiti, insomma una regressione economica non indifferente. nasce perché evidentemente poi il centrodestra ha ritenuto opportuno di formulare una proposta forse nei confronti di una persona che in passato da Presidente del Senato, ma anche da gruppo Presidente del Senato, forse Bontalora aveva dimostrato equilibrio e anche capacità di sintesi ma anche di decisione, mi è stata proposta naturalmente dal mio partito, da Gianfranco Micichetta, Silvio Pelusconi, trovando la piena condivisione di tutti gli alleati e devo dire anche girando l'entusiasmo degli alleati, ma anche l'entusiasmo del territorio, cioè il nostro popolo di centrodestra è tornato a gioire, incontro le persone e mi manifestano la loro serenità, la loro gioia di vedere il Polo, la coalizione unita, pronta a governare e pronta a parlare al proprio interno, perché è evidente che all'interno del centrodestra ci saranno dei confronti, non dei conflitti. Bene, quindi Renato Schifani candidato ha riunificato quello che è il centrodestra che diciamocelo, è inutile che lo nascondiamo, è stato molto litigioso prima di scendere su questa candidatura, però ci sono delle indicazioni, mentre Renato Schifani ha detto agli alleati quando ci sono stati i confronti sarò garante di tutti, perché questa è una cosa che già ha detto in occasione di alcuni confronti, ha anche detto e poi fatto, per il listino decido io, per gli assessori decido io. Innanzitutto mi sono ispirato alla paridignità di tutti gli alleati, per me non esistono alleati di serie A o di serie B, ciascuno contribuisce con il proprio consenso, con i propri quadri, con le proprie idee, con i propri progetti all'elaborazione di un progetto di crescita della Sicilia. Detto questo, il mio primo impegno è stato quello della formazione del listino, non nascondo che è stata un'elaborazione, non dico difficile, ma articolata, perché ho garantito a ciascuna forza politica un rappresentante in assemblea dove dovessimo vincere. Ho lavorato su questo e ci sono riuscito, ma devo dire non ho avuto particolari difficoltà, anzi ne sono molto entusiasta, che anche gli amici della coalizione ne sono. Sulla giunta mi sono espresso in maniera un attimo diversa, anticipo la sua domanda, perché lì discuteremo, perché o si parte con il piede giusto, nel senso che si cerca di avere, le farle cito la mia esperienza. Io ho fatto sette anni il capogruppo in Senato e nel 2008 si prevedeva una nostra vittoria, che è caduto però di da poco in Senato. Pensavo di essere candidato al Ministero, perché così mi aveva detto Berlusconi, ma io dicevo poi ne parliamo, per ora vinciamo. Non immaginavo di essere proposto da Berlusconi a presentare il Senato e le sue parole sono state, hai fatto sette anni il capogruppo, l'hai fatto bene e la soluzione è naturale, perché chi meglio di te conosce il Senato, le regole, le regole istituzioni, le regole di funzionamento dell'Alta Camera. E allora rifacendomi a questo principio, io spero di riuscire a trovare una giunta composta da assessori che, non tutologi, ma invece esperti del settore, ma assessori politici, non tecnici, che conoscano la materia e che quindi partano subito, come io sono partito dal Presidente del Senato, agevolato dalla mia esperienza di sette anni di capogruppo. Quindi questa è la direzione, ma volendo affrontare il tema delle prime cose da fare, è una domanda che si fa sempre in questi casi. Renato Schifani viene eletto, partiamo da questo principio Presidente della Regione Siciliana, cosa vuole fare all'inizio, i suoi primi cento giorni, quali saranno le prime cose da fare? Noi abbiamo delle emergenze, abbiamo l'emergenza rifiuti, l'emergenza lavoro, l'emergenza delle liste d'attesa, l'emergenza nella lentezza di una burocrazia che non ha singola responsabilità, ma ha delle leggi che ingessano i processi decisionali. Io privilegerò attraverso iniziative legislative la logica e il principio del silenzio assenso, al cittadino occorre garantire tempi certi perché si decida da parte della pubblica amministrazione se l'autorizzazione gli viene concessa o meno, quando lui a suo carico con un proprio capitale decide di investire, decide di iniziare rischiando, non si può negare al cittadino una risposta in un tempo o nell'altro, ma anche i grossi gruppi internazionali, parlerò anche con i fondi perché loro chiedono questo, mi ricordo, mi permetto di citare l'iniziativa di un mio avversario, si fa per dire, di Enzo Bianco, l'asilo di Silicon Valley, lei ricorderà, Enzo Bianco con l'asilo di Silicon Valley trasformò determinate zone come zone di attrattive promettendo ai grossi investitori tempi certi per le risposte sulle autorizzazioni ed ebbe tutto sommato un successo indifferente perché i grossi investitori sono arrivati su Catania, diciamolo pure, Catania e il polo industriale della Sicilia, non possiamo nascondere questo. E questo è un fatto, quindi tempi certi, tempi certi per gli investimenti, tempi certi un po' per tutto però. Ma ci mancherebbe, tempi certi, vogliamo parlare di vista d'attesa, le pare normale che in alcune realtà il cittadino debba aspettare 5-6 mesi per un attacco, per una risonanza magnetica, per un ecocardiogramma, è un fatto inaccettabile, così come è stato un fatto inaccettabile la vicenda delle salme abbandonate, che non hanno trovato accoglienza nei cimiteri per l'assenza di loculi. Queste emergenze che toccano la dignità dell'uomo, la dignità della persona e la dignità della famiglia perché io guarderò con attenzione anche al tema della famiglia. Noi dobbiamo fare in modo che le famiglie rimangano unite, evitare l'emigrazione dei giovani in altri territori. Dobbiamo fare in modo che la famiglia rimanga unita perché per noi, almeno per la mia formazione culturale e cattolica, la famiglia è un valore, è un valore irrinunziabile. Io, devo dire, ho ispirato la mia vita, la mia attività politica, anche quella professionale alla famiglia, le scelte più delicate della mia vita le ho assunte in famiglia, prima coinvolgendo moglie, figli per le decisioni importanti e l'ho trovata sempre a mio supporto perché è un valore per me irrinunziabile e credo che per me e anche per la coalizione che rappresento. Cosa ti hanno detto a casa di questa candidatura a Presidente della Regione adesso? Cosa le hanno detto a casa di questa candidatura? Ma guardi, è stata una cosa che è giunta nel giro di 24 ore, per cui non c'è stato nemmeno il tempo di commentare perché siamo stati così, lo dico, travolti, ha detto bene lei, quindi siamo subito partiti, ciascuno fa quello che può, mia moglie deve una mano per gli aspetti organizzativi, i miei figli ho due figli avvocati, uno che fa l'avvocato a Palermo e uno che fa l'avvocato a Roma, quindi lui è rientrato, questa notizia è arrivata quando mio figlio che fa l'avvocato a Roma, era qui in vacanza con la moglie e la bambina, il grande era con noi, è arrivata e naturalmente ci siamo messi all'opera, per il comitato elettorale, ognuno fa quello che può fare al massimo, ma in questo si misura proprio la forza della famiglia. E quindi anche da questo punto di vista raccontiamo anche un po' il lato personale umano per quanto possibile di Renato Schifani, ma torniamo a parlare della campagna elettorale propriamente detta, 7 candidati Presidente della Regione, potevano essere anche di più, alcuni non sono riusciti a presentare opportunamente secondo le regole le liste, è quasi un record, è una corsa importante, avversari non nemici, e questo si è capito molto chiaramente anche dai suoi riferimenti ad alcune cose fatte correttamente da chi avversario è come Enzo Bianco poco fa, ma questo potrebbe frammentare il panorama? Ma il pericolo che noi corriamo è duplice, da un lato la tenuta delle elezioni in periodo estivo, perché tra l'altro lei sa che il nostro clima a settembre è un clima pienamente estivo e quindi corriamo questo rischio dell'astenzione, corriamo questo serio rischio dell'astenzione che va evitato, va evitato e spero che possa essere contenuto dalla concomitanza delle elezioni politiche che solitamente registrano un'alta percentuale di partecipanti perché gli italiani li votano per il loro governo, per il governo del loro paese per 5 anni e quindi c'è una mobilitazione più forte, io mi auguro che questa mobilitazione che sarà, temo secondo me comunque inferiore a quella delle precedenti elezioni politiche, perché il clima, il momento è la prima volta che nel nostro paese guardi che si vota in estate, non ci sono precedenti, quindi il calo secondo me se può leggerlo ci sarà, però di solito le astenzioni comunque rispecchiano quello che è il quadro della volontà degli elettori, non ci sono tendenzialmente astenzioni che danneggiano una parte politica o un'altra, perché viene una spalmatura dell'assenza sulla spalmatura del voto. Quindi non c'è il rischio che venga danneggiato secondo lei una coalizione piuttosto che un'altra, un partito indipendentista piuttosto che… No, credo di no, credo di no, penso che una parte probabilmente, secondo il mio parere, quella parte che ha le precedenti politiche ha votato in massa il momento 5 Stelle come voto di protesta, come voto di forte protesta che ha raggiunto picchi inaspettati, 50% nei collegi del Movimento 5 Stelle da solo, quindi c'è stato in quel momento un incalamento della rabbia della protesta su quel contenitore politico e quindi vi è stata un'altra per cento dei partecipanti, ma perché molti soggetti che si sarebbero stenuti sono andati a votare scaricando la loro protesta sul contenitore 5 Stelle. Bene, questa volta credo che non lo faranno in buona parte perché i numeri parlano da sé, cioè il fallimento del progetto 5 Stelle è un dato oggettivo. Loro si considerano comunque il primo partito qui in Sicilia secondo loro sondaggi interni, questo è una cosa… Questo lo vedremo il 25, però sicuramente non mi si potrà dire che la percentuale che raggiungeranno il 25 sarà pari a quella che hanno raggiunto alle politiche 5 anni fa, io mi riferisco anche perché avremo lo stesso giorno nelle politiche regionali, dico soltanto che quel fenomeno che ha avuto quel picco si è esaurito perché l'avventura del momento 5 Stelle a livello nazionale è fallita, ma lo dicono i numeri, non lo dice Renato Schifani, è fallita, non sono riusciti a governare il paese, l'indigiosità interna e fallimento di scelte governative la dicono chiaramente e quindi poi la misura di queste scelte positive e negative si realizza nel momento del voto, nel momento più alto della democrazia che è quello del voto e finalmente dei cittadini. Secondo lei saranno più le politiche a trainare il voto per le regionali o viceversa le regionali a trainare il voto per le politiche? C'è anche chi parla, visto che è ormai in memoria il 61 a 0 del centro-destra, c'è chi parla del possibile 18 a 0 perché adesso così sarebbe, ma è una eventualità non semplice? No, io la vedo, i dati dei quali siamo in possesso vedono il centro-destra prevalere in tutti i collegi maggioritari, sia di Camera che di Senato, perché vi è una forte volontà in Sicilia di cambiamento rispetto al voto di 5 anni or sono dove, le ripeto, addirittura abbiamo perso tutti i collegi e ha vinto tutti i collegi il 25 Stelle. Adesso c'è una rivisitazione e dati che noi vediamo, ma io lo vedo girando la Sicilia, c'è una ripresa fortissima al centro-destra e noi puntiamo a vincere tutti i collegi, poi saranno i cittadini. Voi vi sentite in condizioni di rappresentare questo cambiamento molto del centro-destra, ma non soltanto, anche del centro-sinistra è comunque una candidatura di esperienza. Vi sentite di rappresentare? Quando ho ribadito che non mi ero mai occupato di politica regionale, perché è un fatto vero, non è che nascondermi, l'ho seguita sicuramente da capogruppo, l'ho seguita dal Presidente del Senato, ho seguito la politica regionale, non essendovi partecipe diretto, non avendo ruoli naturalmente, ma io ricordo quando ero Presidente del Senato la mattina mi svegliavo e leggevo la stampa, partivo dalla stampa locale e poi andavo alla stampa nazionale, non ho mai perso l'occhio, sono rimasto sempre in Sicilia, anche quando rivolgevo, ricoprivo la seconda carriera allo Stato, a casa mia tutti i fine settimana, a meno che non girassi, quindi conosco la politica regionale anche se non ho avuto ruoli. Bene, ho detto che non mi ero mai occupato di politica regionale e qualcuno del PD ha detto che Schifani dichiara la propria incompetenza, il proprio voto su questo. Io non abbocco, queste cose me le lascio un po' scivolare, perché credo che alcune parti politiche trovandosi in difficoltà sotto il profilo del consenso tentino di infiammare la politica con queste accuse, con queste cose, ma non trovo nemmeno una persona ingenua che abbocca. Una delle polemiche che è stata lanciata proprio oggi riguarda alcune delle affermazioni degli ultimi due giorni e in particolare Ponte sullo Stretto è termovalorizzatore. Sì, beh, guardi, Ponte sullo Stretto, parlo del 2006, fine 2006, cinquennio del governo Berlusconi, Rocaporuppo, fine 2006 noi eravamo a buon punto, il progetto approvato, il pre-contratto con il pre-giro, se non ricordo male, stavamo per partire. Perdiamo l'elezione per 30 mila voti, Prodi al governo, nel giro di 90 giorni si è fermato tutto, è messo in liquidazione la società Ponte sullo Stretto, presieduta da Iucci, che era una persona abbastanza preparata. Tutto cancellato e poi non se ne è più parlato, perché quel governo è stato paralizzato naturalmente dagli ecologisti, dai vetri, secondo le loro idee, voglio dire, ognuna le proprie. Purtroppo non può rientrare nella programmazione PNRR, però avrò un giamello che sicuramente mi dà una grande mano, l'amico Chiuto, Presidente della Regione Calabria, ma conto di avere un'interlocuzione forte con il governo nazionale che centrodestra, speriamo, ha sempre creduto in questa grande opera, che non deve essere una questione di bandiera, è una questione di sviluppo, non possiamo rimanere finlandizzati e marginati a causa della insularità, devo riconoscere a proposito di insularità, che il governo musulmeci ha concluso gli ultimi giorni della sua attività, ottenendo l'introduzione in Costituzione del principio della insularità per Sicilia e Sardegna, il che denota che evidentemente questo principio merita un'attenzione di carattere economico-finanziare, vista la penalizzazione geografica e questo è un fatto storico. Su questo c'è un suo avversario oggi, Gaetano Armao, che era in quel governo, che la rivendica come è successo proprio? I successi non sono mai personali, perché i successi sono di una collettività politica che ha votato quel principio, allora se Gaetano Armao ha votato a nome di tutti i senatori e a nome di tutta la maggioranza, a questo non credo, lui ha portato avanti, ma non è stato il solo, anche sottoscritto come parlamentare ed altri, l'abbiamo condiviso, perché su queste modifiche della Costituzione non è che ci si può intestare singolarmente alcune battaglie, ma sono il frutto di un'area, anche perché la nostra Costituzione prevede che per le modifiche occorra, per evitare il referendum confermativo o meno, maggioranze qualificate, quindi grande consenso, qui c'è stato un grande consenso, quindi c'è stata una scelta di tutta la politica, non vi è dubbio che il governo musulmane, non parlo dei singoli, perché Gaetano Armao è stato esponente di un'azione collegiale del governo, dove erano anche altri assessori pure di Forza Italia, degli altri partiti e degli alleati, è stata un'azione della giunta regionale. Parliamo anche di termovalorizzatori, questo è un altro grande tema sul quale ci si divide in campagna elettorale, la sua opinione è positiva? Ma io l'ho detto subito, non ho avuto nessun tentennamento, l'ho detto sin dal primo giorno, ho sempre creduto che bisogna guardare avanti, non avere paura, ormai le tecnologie sono avanzatissime di tutela dell'ambiente e occorre trasformare il tema di evitare di bruciare un po' i residui e trasformandoli in energia, in alcune città ci sono termovalorizzatori nel centro della città e la tecnologia è andata avanti, le tecnologie di tutela sono sofisticatissime e allora perché fermarsi dietro ad atteggiamenti ecologici che non guardano allo sviluppo, allo sostegno, appartengono soltanto ad una cerchia ideologica che io rispetto per una voldegero, però voglio dire se bloccano il progresso e bloccano la tutela dell'ambiente paradossalmente anziché tutelarlo la bloccano, dobbiamo interrogarci, io andrò avanti su questo se dovessi vincere le elezioni, tutta la coalizione è con me e l'ho ribadito, chiederò al governo nazionale per la Sicilia la norma Goltieri che è stata chiesta dal Partito Democratico all'interno del governo e l'ha approvata dal Parlamento, la norma Goltieri è una norma che lei sa prevede che il sindaco di Roma Capitale possa avere poteri speciali per la l'insediamento di un termovalorizzatore, credo che lo stesso fatto si possa fare in Sicilia prevedendo Palermo o Catania, ma dobbiamo affrontare questo tema, non possiamo esportare i rifiuti all'estero e pagare, non possiamo camminare in delle città somverse dai rifiuti, dobbiamo avere il coraggio e le scelte. Energia, parliamo di termovalorizzatori, ma oggi c'è un grande tema del caro bollette che rischia di mandare gambe all'aria, imprese, attività e così via dicendo, bisogna intervenire? Ma lì l'intervento non può che essere del governo nazionale, i governi regionali hanno un'autonomia relativa, possono stanziare alcune somme, ma sono stanziamenti tampone provvisori, c'è un programma del governo di riduzione purtroppo dell'energia che peserà sulle famiglie, peserà sui dipendenti, ma vi è anche una richiesta della Lega nei confronti dell'attuale governo che è rimasto in carica per le ordinarie vicende e queste purtroppo sono ordinarie ma anche straordinarie, una richiesta della Lega di procedere ad uno scostamento di bilancio, un maggiore indebitamento di 30 miliardi per ridurre il costo delle bollette, vi è un dibattito in corso, mi auguro che questo governo ancora in carica possa affrontare il tema, devo dire che l'imposizione del tetto massimo dell'energia, del gas è stato accettato finalmente a livello europeo, mentre prima la Germania frenava, quindi vedo passi in avanti, è una grande emergenza, occorre secondo me un'azione collettiva di tutte le forze politiche nazionali per risolvere questo tema, questo tema non è né di destra né di sinistra. Questo è un tema che riguarda proprio l'economia, la sopravvivenza delle famiglie e il lavoro? Entra in tutte le famiglie in maniera proprio verticale, non è che entra nel mondo economico, nel mondo aziendale, nel mondo familiare, dobbiamo trovare una soluzione, dobbiamo trovarla, io devo dire che quando Calenda ha detto fermiamoci un giorno per discutere tutti, lo guardo e l'ho visto con attenzione questa iniziativa, siamo presi alla campagna elettorale, però un'azione mirata di tutte le forze politiche responsabili per mettersi attorno a un tavolo io non la vedrei male. Siamo quasi in chiusura, la mia domanda è ci sarà una grande manifestazione nello stile del centro-destra a Palermo per chiudere una campagna elettorale e soprattutto aspettiamo l'arrivo anche di Silvio Berlusconi oppure no? Allora, io confido molto naturalmente sull'arrivo del Presidente Berlusconi e ci speriamo in tanti, ancora non abbiamo una data, ma siamo fiduciosi, io e Gianfranco Micicchè siamo molto fiduciosi sul cui ama la Sicilia e tutte le volte in cui è venuto ha trovato non consenso ma di più manifestazioni oceaniche di affetto. Per quanto riguarda la prima parte della sua domanda, ho ricevuto sollecitazione da parte degli alleati, proprio in questo momento di grande euforia, di dar vita a una manifestazione non tanto di apertura della campagna elettorale, quanto di aggregazione di intervento, parte degli alleati e del sottoscritto anche per parlare pubblicamente del proprio programma. Trovato sollecitazione, l'avremmo individuato per il prossimo 10 di settembre a Palermo perché è la capitale della regione, non per voler sminuire l'importanza delle altre città e quindi contiamo di fare una grande manifestazione la mattina del 10 perché parlino alle forze politiche, le coalizioni e poi parla il sottoscritto a loro ma principalmente ai siciliani. Quindi ci sarà questa manifestazione importante, grande del centro-destra il 10 di settembre a Palermo. Ci resta un minuto prima di chiudere la trasmissione, se lei in questo momento potesse fare un appello al voto, cosa vorrebbe dire ai siciliani, perché i siciliani devono votare Renato Schifani Presidente della regione? Innanzitutto un appello al voto perché il voto è il momento più alto della democrazia, non ci si può lamentare di alcune cose che non vanno, alcune cose possono non andare e poi a stenersi nel momento in cui si è chiamato a decidere la classe dirigente che potrebbe risolvere o meno i problemi dei quali ti lamenti. Votere Renato Schifani è votare un progetto, una coalizione unita di centro-destra che governa quasi 4 quinti come regioni, 4 quinti delle regioni italiane, 16 su 20, quindi evidentemente il centro-destra dimostra quando governa le regioni di essere protagonista dell'azione del buon governo, quindi non pongo il tema di Renato Schifani persona, credo che il centro-destra come formula sia una formula talmente vincente da essere premiata dagli elettori delle varie regioni, gli elettori evidentemente per riconfermare molti governatori uscenti ne sono soddisfatti, questa è una formula, io ce la metterò tutta anche con la mia esperienza ma anche con i rapporti che ho assunto in questi anni nei confronti dei futuri soggetti di governo perché siamo certi che il governo sarà di centro-destra, ma mi porrò con loro senza cappello in mano ma per affrontare i temi con dignità, ma con concretezza, puntando su proposte mirate, non andando ad abbassare la guardia su quelli che sono gli obiettivi e non accetterò compromessi e ribasso. Perfetto, grazie a Renato Schifani per questi 24 minuti che abbiamo passato in sua compagnia, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fin qui e vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo Talk Sicilia, arrivederci!